Si chiamano Zach e Brittany Wolf di St. Mary's e pensate bene negli Stati Uniti d'America. E pensate che la coppia non poteva avere figli, diciamo così, non poteva in modo indicativo ma il tempo imperfetto, ma in realtà la coppia è riuscita ad avere figli. Quindi, coppia infatti da un'infertilità palese, tangibile, ma da un bel otto anni di tempo sono diventati genitori. Hanno infatti ben quattro figli in totale. Era il sogno della vita quello per entrambi di diventare dei genitori, alla fine però ce l'hanno fatta, e nonostante il fatto che era stata dichiarata come una coppia, diciamo così, infertile e non fertile, ce l'hanno fatta. Infatti c'è una probabilità inferiore per cento che gli embrioni risultassero i gemelli, ma alla fine però ce l'hanno fatta, ci sono diventati finalmente padre e madre, madre e padre, va bene, di quattro figli in totale, va bene? Beh, complimenti amori, il matrimonio ci fu nel 2015, un po' di anni fa. È stato un percorso stressante, ci hanno lavorato solo due due, ma alla fine il risultato c'è stato, sono diventati genitori di quattro figli. Ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti e una buona serata.